Ciao, frequentiamo il quarto anno di odontoiatria all'Institut di Varese. Così sono state le nostre lezioni. Questo periodo ci ha imposto regole e restrizioni, ma le lezioni online, la piattaforma e learning e la disponibilità dei professori ci ha permesso comunque di continuare il nostro percorso formativo. Sulla piattaforma e learning i professori ci hanno caricato il materiale didattico con regolarità. Alcuni hanno preferito caricare video lezioni, altri dispense e altri ancora delle slide che ci hanno spiegato durante le lezioni che abbiamo svolto su Teams. A prescindere dalla modalità scelta, tutti i professori sono stati disponibili per ulteriori spiegazioni e chiarimenti, rispondendoci tramite email oppure direttamente attraverso la piattaforma e learning. Teams si è rivelata un'ottima piattaforma per fare lezioni. Ci ha permesso di confrontarci quotidianamente con i professori, anche con la possibilità di vederci tramite video. Abbiamo avuto un modo di interagire durante le lezioni e i professori sono molto disponibili a chiarire eventuali dubbi insorti, anche tramite degli esempi di casi clinici. Ciò ci ha permesso di sentirci come se fossimo in aula, anche se a distanza. Alla fase di questo semestre ci sono stati Lo svolgimento degli esami online ci ha permesso di rimanere in pari col percorso formativo e, al contrario delle aspettative, questa soluzione si è rivelata non così tanto diversa rispetto a quella tradizionale in presenza. Grazie.